Se arrivate a 20.000 like facciamo 24 ore 24 penitenze e inizia Graziana Ciao! No, non ci siamo mai chiesti com'è condividere tutto per 24 ore Ma già che ci siamo, verifichiamo! Diteci se l'avete capita nei commenti Iniziamo facendo colazione da condividere E diciamo che ho scelto io, quindi grazie nel costretta Ho preparato un bellissimo panino col burro d'arachidi Che puzza Tu puzzi Puoi scegliere O lo mangi O lo mangi tutto io Mangia tutto tu Vabbè ma è condividere quindi mangi tutto Buono, buonissima Sei molto buono, buonissima Buono, buonissima La fatta è tragica È buono Non riesco a parlare Non c'è andrà Dobbiamo condividere anche lo stesso bicchiere ora Condividiamo il tavolo, condividiamo la casa Condividiamo il panino E allora scusami E però facca Scusami, se nemmo fai facciamo bene O me già Condividiamo lo stesso tovagliola Sì ma lo condividiamo Spazzaniche Ma l'avevo già fatto Ho seta Sì ma condividiamo Non significa che ti piaccia lo schiavo E te la vado a prendere io l'acqua Che tu, nulla Vado io In realtà dovremmo condividere Si manca l'apertura del frigo Vabbè, buona Cioè, le cose possibili Se noi dovremmo condividere pure la maglia Non si può condividere la maglia E non mi chiede per favore Un attimo Lo prendo io perché ho preso l'acqua Condividiamo la gentilezza Quindi io posso condividere il morso sul tuo braccio No, perché se noi ti condivido un pugno Perché devi bere prima tu? Quasi parte Io condivido l'altro lato del bicchiere Prossimo video Uno dei due si è passato il cavolo Voglio dire, non è che ce lo passiamo dal bicchiere Buono, buonissimo È molto buono Buonissimo Che arriviamo il momento Di andarci a lavare Io mi lavo proprio i denti No, no No, 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 no Sasso cataforgici Ma ho il bagno Non si può passare cosa, no Sasso cataforgici BANG Io non lo faccio No, non sono fai Hai avuto questa idea, la fai E il video finisce qui No, non finisce qui Ci vediamo domani Anzi, questo video non esce proprio No, no, no Estiva amici No, no, no Che schifo Non fare tutto per bene Appena appena Stavano tutti i denti per bene Sì, tanto Vabbè, gliela farò pagare ragazzi Gliela farò pagare L'hai voluto tu Raga, mi vedevo a vomitare Anche se è grazia Mi vedevo a vomitare Scusami E dai Che simpo le Eh, schifo Sento bagnato È l'acqua Certo che è l'acqua Non ci ho sputato su Ma come ti lavi dentro È la schifo È il primo step È andato Step ne è su Che scemo Dove soffi le fanno sei culo Sennò che lo devi fare Sì Scusami Non puoi giocare E stai davanti E lo so È condividere Quindi ho giochi con me Come giochiamo Eh, ci dividiamo il mouse Il mouse Il mouse Volevi toccare il santo grado Alla position 5 Questa persona Sì, quindi ci dividiamo Tu cammini E io sparo Viceversa Non possiamo fare altro Sennò non ci giochi Che vuoi fa? Allora, grazie Ascoltami Io mi muovo Con il re 2 Tiri le ragnatelle Per spostarci tra i palazzi Pogliamo arrivare a quel puntino Il triangolo Il triangolo Vai Lascia Vai Hai visto che Diventa più duro Il controller Sì, ma io non posso Solo sparare È la cosa più bella Non cliccare i tasti Hai i tasti Hai solo un tasto a disposizione Andiamo a cliccare Uh, no Volevo vedere che succedeva Secondo la regola del Pepios Prima il piacere Poi il dovere Quindi abbiamo giocato E adesso Studiamo Sì, ma io non devo studiare Che cosa devo fare? E condividiamo Quindi tu leggi le mie stesse cose Ma no Perché? Non ha senso Che cosa devi fare mentre io studio E ho necessità urgente Ma mi leggo la tra cui Scusa, mi leggo il Dragon Ball Ti leggi le mie cose Ma caldo, ragazzi Studiamo dopo Giochiamo Andiamo a giocare la Playstation Oh, ehi Seb Ok, il tribunale Decidiva direttamente in camera di consiglio Corretto, son Mario Eh, son Giuseppe e son Giovanni Neanche Son Mario Son Giuseppe e son Giovanni Con giovanni Ehi Zoom Oh, no Mostro Sì Giuseppe and Son Rancher di studiare. Tu la devi smettere. Stavo condividendo le tue opinioni. Sì, dove sono arrivata, sentiamo? Alla riforma parlamentare. Che cosa? È ora di pranzo. Siamo arrivati al pranzo e abbiamo, ho, cucinato una magnifica pasta con poco pesto perché Grazie a me non piace molto. Che verde. Allora abbiamo un bicchiere di cochina bella fresca, una forchetta, un piatto e la pasta da condividere. Delizioso. Non so cucinare nemmeno la pasta. Ragazzi salvatemi, mi prego, io già ho cucinato, lei non ha fatto niente. Stavo venendo di studiare. Alla questa scusa di studiare. Non fa nulla tutto il giorno. Ragazzi aiutatemi. E ora che si fa? Smaltiamo il cibo per un lato? Sì. Sì, ma lo sai che finirà male. Allora parte con la destra, eh. Che vuol dire parte con la destra? A camminare. Madonna ragazzi, moriamo. Piano, piano. Parti con la destra ha messo alla sinistra. Bro, se cadiamo da pirulan è brutta la situazione. Ti è piaciuto di chiedere andare a mangiare il sushi? No, ma che bugiale. Oh, oh, oh. Vabbè ragazzi, ci vediamo domani. Destra, sinistra. Destra, sinistra. Destra, sinistra. Lui, ignaro, credo che non abbia ancora capito, che dobbiamo anche dividerci la macchina. Sì, ma come facciamo? Quindi, come Spider-Man. E io metto le marce. Bro, cioè non c'è lontagna ma sai, eh, perché se no qua veramente va a finire male. Ok. C'ho la frizione premuta, metti la retromarcia. Ah, ah, aspetta. Vai? È fin qui. Andiamo. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Vai di prima. È difficile farlo al contrario. Hai messo la seconda? No, la prima. La terza volevo dire. Vabbè, lui non sa guidare. No, è quella che ha messo la terza. Ma che terza? È prima, è prima. No, gli occhiali. Challenge. No, comunque vedo. Seconda? Seconda. Abbiamo praticamente preso la granita. Una granita. Anche se non la voglio, però la voleva Graziana, quindi che ferro la prendi? Sì, perché è fresca. Esatto, vi faccio vedere una cosa. L'abbiamo pagata due euro e ora, siccome condividiamo tutto, mia cara Graziana devi darmi un euro. Perché di solito non gliela faccio pagare, ma oggi sì. Oggi sì. Prego. Molto gentile. È un piacere fare affare con lei. Tra l'altro abbiamo chiesto un solo cucchiaino apposta, perché dobbiamo condividere tutto. Stiamo quagliando di caldo, quindi ora credo che torneremo a casa e ci faremo anche il bagnetto. Ma guarda, il bagnetto. Che vuoi fare? Insieme. Eh vabbè. Vabbè, se vuoi essere puzzolente, grazie. Ci siamo. Dato che dobbiamo fare il bagno, dobbiamo condividere. Ma guarda che peccato, ma ti vedo proprio dispiaciuto. Almeno una cosa positiva la possiamo fare questo video per favore. Bisogna risparmiare l'acqua. Lo sapevate voi? Ah, tutto si è tagliato fuori. Sì, ma dovremmo condividere. Cioè, fai anche a me un po'. Ah. Ma che più lavori sono? Oh, scusami, non vero. In this world in your life I can't be in the sky. Ok? T'è tra maure. Abbiamo riscaldato una piadina e ora siccome scotta, la prenderemo insieme. Occhio dannetto che scotta. Oh. Oh, 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 vai. La casa non è andata a fuoco. Ma tu che cosa mangi? La pizza zittacchino. Non mangio la piadina. Cioè, non mangia lo specchio, lo mangia perché Grazia non mangia niente. C'è qualcosa che non funziona lì. Io mangio la pizza zittacchino. Siamo pronti? Io mangio questo lato e tu questo. Perché c'è più grasso, io col grasso mi strozzo. Eeeh. Per favore, ragazzi, io sono un po', cioè, dispiace, povero Pepe. Aiutatemi, io soffro. Così la sopporti, Graziana. Cercasi ufficialmente nuova ragazza per Pepe. Possiamo mangiare? Non mi frega niente. A questo video ci lasciamo. Basta. Oh. No, è ruota, non trovo nulla. Ecco perché non ti rispondevo. È agosto. Niente, è agosto di soli ci lasciamo. Nuovo video mai visto sul mio canale. Se arrivate a 20.000 like, però 16 dovete arrivare, magari già entro oggi, quindi tutti quanti, anche tu, che non lasci mai like, lascialo, facciamo 24 ore, 24 penitenze e inizia Graziana. Quindi farà 24 penitenze per 24 ore. No. Video più bello del canale uscirà. No. È finito. Ragazzi, il video di oggi termina qui perché Graziana mi ha letteralmente stancato, quindi non la vedete più sul canale. E poi è colpa mia. Però se arrivate a vendimilare che la vedrete di nuovo, per l'ultima volta. A convenienza. Raga, noi ci vediamo un sabato con un nuovo video. Lasciate tanti like. Sono un pagliaccio.